Bene ragazzi, allora il problema l'ho risolto, praticamente al caricatore innanzitutto stava cominciando a perdere e ho dovuto allentare la valvola, però il prossimo passaggio secondo me non solo di allentarla per stringerla ma inoltre dovevo anche metterci un po' di olio al silicone perché un po' di fischietto li fa inoltre ho fatto proprio il consiglio, ci ho messo un paio di gocce all'olio al silicone sul gommino del caricatore ci ho messo anche il gas nero, quello lì proprio per l'inverno adesso provo a sparare e ho persino anche lubrificato il guidamolla e la molla del caricatore che non è tanto necessario e come potete vedere la pistola rimane di nuovo scarellata ciao a tutti, al prossimo video il vostro consiglio mi è stato utile, ciao a tutti, alla prossima